La Coppa Valbrembana è riservata alla categoria lievi con l'inizio della settimana, entrata nel vivo della sua nona edizione. Dopo aver esaurito la lunga fase a Gironi, sul campo Lido Sena vanno infatti in scena i quarti di finale. Ieri sera, lunedì, si sono già disputate le prime due gale ad eliminazione diretta. A conquistare il lascia passare per le semifinali, che si disputeranno giovedì 13 alle 20.15 e alle 21.30, sono state Sorisolese e Zogno 98. La prima ha superato per 2-0 lo scanso Pedrengo, la seconda ha avuto la meglio sul Ponte Ranica per 3-0. Delle 16 partecipanti iniziali dunque, entro questa sera ne resteranno soltanto 4, con le finali per l'assegnazione del torneo e per il terzo posto, previste per sabato prossimo, 15 giugno, sempre al centro sportivo Lido Sena. Sarà anche l'occasione per assistere all'ormai tradizionale sfilata di auto Ferrari. Al termine della finalissima spazio poi a tutte le premiazioni di rito, con l'assegnazione tra gli altri del trofeo Video Bergamo al miglior giocatore della manifestazione. Sabato scorso, 8 giugno, si è anche disputato al di fuori della Coppa un interessante quadrangolare della categoria giovanissimi, che ha visto invece l'affermazione dell'Alzano Cene davanti alla rappresentativa Valle Brembana, Aldo Sena, terzo classificato, e alla rappresentativa Valle Seriana. Ora fare i puntati quindi sul rush finale della Coppa Valbrembana, nella speranza che anche il tempo, quest'anno particolarmente capriccioso, basti pensare che nei primissimi giorni della fase a Gironi è regalato anche neve e freddo invernale, conceda finalmente un po' di tregua.